E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscretti, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, 4000 like facili, seguite le pagine amiche, una vita sfumata a Viola, Viola Press, Suffering Fiorentina, domani magari facciamo un video miscellaneo con quello che succede, mercato, notizie, vi lascio in descrizione l'app di FanRating per andare a dare i voti, mi raccomando, ai giocatori in questa partita e guardate tutti i video fatti in precedenza, il processo del campionato in cui abbiamo parlato di molto, di Fiorentina, il video sul mercato fatto prima sulla Fiorentina, Verona, Venezia, recuperate tutto. Allora, Fiorentina, Benevento, questo appuntamento serale di Coppa, la Fiorentina passa il turno ma che serata è stata, diciamo, in cosa si sostanzio l'analisi che possiamo fare di questa parte? Bene, il risultato, a livello di prestazione, forse un po' di fatica in più di quello che ci si aspettava, cosa doveva essere? Doveva essere una valutazione di alcune seconde linee, giustamente schierate da italiano perché abbiamo adesso noi abbiamo il Sassuolo e il Verona che sono due partite che diranno molto sul nostro campionato e sulla nostra proiezione potenzialmente europea, quindi oggi ha fatto bene a fare un bel turnover e anche a lasciare in campo gente di seconda mano, usiamo sto termine, anche fino verso il finale, ha fatto molto bene e cosa doveva essere? Se deve essere una partita in cui non si sta tanto a, come si può dire, a parlamentare, a guardare ovviamente trame di gioco perché quasi tutti i titolari erano fuori, è giusto, è giusto evitare di star lì a rompere, rompersi i maroni col gioco, col bel gioco che non c'era. Diciamo che si può porre l'accento sull'affidabilità ad alto livello di alcune seconde linee e l'idea che ne esce è che non solo alcuni giocatori per questa squadra qui sono fondamentali per vedere la Fiorentina a cui siamo abituati quest'anno, ma che è una squadra che deve sempre andare, per essere la Fiorentina che conosciamo, per essere la Fiorentina bella, la Fiorentina convincente, la Fiorentina schiacciassassi del campionato, devi anche essere sempre a cento all'ora sia di testa sia fisicamente. Il problema della testa è una cosa che riguarda anche i titolari, penso ad Empoli e penso oggi dopo il 2-0 nostro che ci siamo un po' troppo rilassati. Il problema fisico e di resa riguarda anche certe seconde linee. Abbiamo visto oggi Cocorin, per fortuna l'abbiamo visto giocare, ci siamo divertiti a vedere in campo Cocorin adesso senza star lì a ciurlare nel manico, a essere sconvenienti, a essere cattivi e via dicendo. Si vede un giocatore che ha delle difficoltà enormi dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista del capire cosa fare. Cioè a livello di movimenti in campo sembra rimasto a 4-5 anni fa, su tutti quella palla, quel cioccolatino che gli mette sottile in mezzo all'area di rigore. Era un rigore in movimento, lui era già avanti 4 metri, ma anche tante situazioni nelle quali fatica ad anticipare, fatica a capire quando ha la palla è di una lentezza devastante. Quindi è un giocatore abbastanza fuori contesto, ci sta, nel senso che noi con un Vlaovic di sto tipo non c'è neanche richiesto, vi ripeto, di avere una punta dietro Vlaovic che poi magari sta in panchina, si rompe i coglioni perché vuole giocare, rompe i coglioni. Però diciamo che oggi era giusto, era nostro, era nostro veder giocare Cocorin. Ha fatto fatica. L'altro giocatore che oggi non mi è piaciuto molto è stato Benassi, un po' la Cocorin anche lui, molto lento, molta fatica. Ha fatto l'assist, per carità, con un bel movimento, una bella azione che ti fa capire che comunque potenzialmente è un giocatore da Serie A. Però a livello di velocità, fisicità, prontezza, riflessi, sempre un po' pachidermico, diciamo un po' di plantigradismo anche lui, un po' di plantigradismo. Non mi è piaciuto molto neanche Igor, devo dire, perché spesso fa delle scelte un po' avventate. Per esempio il gol che abbiamo preso nasce da un suo rinvio troppo basso che il difensore del Benevento intercetta. Ha fatto partite migliori, ecco, mettiamolo così. Lo stesso Venuti, non mi è piaciuto molto, oggi ha perso diversi palloni, rivedibile sull'azione del gol. Un altro giocatore che poteva essere un po' più incisivo è stato, come si chiama, no, un altro giocatore che ha fatto bene, stavo per dire invece, venendo a quelli che hanno fatto positivamente, è stato Terzic. Terzic mi è piaciuto, è stata una partita comunque impegnata, una partita anche fisicamente apprezzabile, presente. Un po' alla Biraghi, ha ricordato anche, se lo vedevate quando andava verso la bandierina avversaria per tentare il close, per tentare l'azione, aveva un modo di fronteggiare l'avversario che ricordava molto Biraghi. Terzic mi è piaciuto, forse tra le seconde linee è quello che mi è piaciuto di più quest'oggi, Terzic. Bene anche Malè, che si conferma su livelli interessanti, dinamismo, velocità, intensità. Malè mi è piaciuto anche quest'oggi, Malè mi è piaciuto anche quest'oggi. Peccato per Pulgar, peccato per Pulgar perché ho visto che si è messo anche a piangere in panchina. Stavo parlando con mio papà, se fosse una cosa così grave, penso alla rottura del legamento, magari sarebbe già stato portato via, penso. Quindi magari è più una paura, speriamo sia una cosa più psicologica o gestibile di quello che tutti pensiamo. Peccato perché è un giocatore, quello che se lo ritrovi anche in campionato può essere importante avere a disposizione. può essere importante avere. Amrabat ha fatto una partita sempre schierato a chiedergli un ruolo che non è il suo. Vi ripeto perché lui lo si vede quando, si è visto anche stasera, quando deve fare da filtro, quando deve contrastare, quando deve far valere la sua, come si può dire, la sua possenza fisica, la sua interdizione, è un ottimo giocatore. Se gli chiedi di fare il regista, di portare palla o di tirare, non è il suo. Non è il suo. E qui è un discorso di italiano che probabilmente ha un modo di intendere il centrocampo, che è quello di mettere gente di fino, gente che porti palla, la tenghi, che la tenghi e questi bulldozer a lui piacciono poco. Però diciamo Amrabat non ha fatto una partita per me negativa, per quelle che sono le sue caratteristiche, per quella che è stata la parte, ha fatto una buona gara. Diciamo che se ci resta qualcosa di questa partita, cosa resterà da questi anni Ottanta, è la sensazione che sia sempre necessario, che sia sempre necessario avere una Fiorentina sul pezzo, a livello fisico e a livello mentale. La sensazione che alcuni giocatori siano imprescindibili per questa squadra, su tutti Torreira, perché quando manca lo senti, Vlaovic, e quindi oggi io, cioè una partita del genere ci sta, perché era giusto affrontare il Benevento in questo momento, considerato che le prossime sono due partite fondamentali, difficilissime e ravvicinate, ci stava di affrontare il Benevento così, anche per certi versi di soffrire, non me ne frega niente, l'importante è averla sfangata, anzi paradossalmente vi dico di più, avrei anche risparmiato per ancora più tempo certi titolari, vada così, restano un po' di idee su alcune seconde linee, che un po' fanno fatica. Allora, Rosati, beh, molto bene, fino al gol, dove un pelin, pelin, pelino, magari qualcosa in più lo poteva fare, però mi è piaciuto, non è facile farsi trovare così pronti, agili, scattanti, mi è piaciuto Rosati, mi è piaciuto, gli do un 6+, poteva essere 6 e mezzo, gli do 6+, perché certe parate sono state veramente interessanti. Venuti ha faticato troppo, ecco, lui è uno che non è che dici che ha la scusante, che non gioca mai, o che è in naftalina, in panchina da 6 mesi, cioè a volte l'hai visto anche giocare, contro il Benevento, mi aspettavo che dominasse quella fascia, invece ha perso molti palloni, ha fatto meglio Terzic, vi ripeto, venuti dal 5 al 6. Milenkovic, gli do 6+, bene il gol, bene la presenza offensiva, può ancora pulirsi un po' in fase difensiva. Igor gli do 6- per quel passaggio sbagliato, 6- Igor. Terzic mi è piaciuto, niente di particolare, tipo assist, gol, così, però un bello stantuffo, gli voglio dare un alto, ma di incoraggiamento, gli voglio dare, anzi, diamogli 6+, perché sennò poi diventava esagerato, un 6+, pieno, meritato, e con complimento. Benassi, guardate, gli do 6-, 6 solo per l'assit, ma per il resto, tanti interventi in ritardo, 6-, potrebbe anche essere... Sono combattuto, dai diamogli 6, dai siamo buoni, siamo buoni, perché comunque è un bravo ragazzo, 6 perché è un bravo ragazzo, Amrabat, 6, Malè, 6+, Caleon, ma non aveva fatto male, conferma un certo trend di crescita non negativo, Caleon, voto, diamogli un 6+, siamo buoni anche con lui, Cocorin, Cocorin dai, dal 5 al 6, Sottil, bene, si conferma, continua a segnare, a gasare, a sgasare, veramente Sottil, una soddisfazione, poteva anche magari un po' finire la partita con un po' più di... ma anche no, perché alla fine ha fatto bene, anzi a risparmiarsi, che così ce lo gustiamo in altre situazioni, a Sottil diamo 6+, dai, stiamo moderati, Vlaovic voto 6, Pulgar voto 6, e cari auguri, buon Eric, Nico Gonzales, non è che lui è entrato un po' svagatino, è un po' svagatino, però diamo 6, Duncan voto 6, Bianco voto 6, voto italiano 6, ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.